Palazzo di Città attraverso il servizio SUAP ha completato la procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per il centro olio Perla Prezioso di Enimed. Il relativo provvedimento unico con tutte le necessarie prescrizioni è stato sottoscritto al dirigente Antonino Collura. Il centro olio di contrada Catarossone e il punto di arrivo degli idrocarburi liquidi e gassosi che pervengono dalle piattaforme Perla e Prezioso sempre di Enimed. Sono stati vagliati tutti gli atti e l'intera documentazione rilasciata agli enti competenti in materia. Il provvedimento unico firmato al dirigente Collura segue l'istruttore a condotta all'architetto Carmelo Di Bartolo. Gli uffici del libero consorzio di Caltanissetta proprio negli scorsi giorni hanno inoltre pubblicato gli atti conclusivi per l'autorizzazione unica ambientale ancora una volta del centro olio di contrada Catarossone in questo caso indicato come terzo centro raccolta olio per l'attività di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi estratti dei pozzi appartenenti al campo gelamare e al campo gelalitorale. Anche in questo caso è stata vagliata l'istanza di Enimed. Tutte le prescrizioni tecniche strutturali e gestionali dovranno essere adempiute, così è riportato. Gli atti sono stati trasmessi al Comune e l'autorizzazione unica ambientale a validità per 15 anni. I provvedimenti sul centro olio di contrada Catarossone arrivano mentre è in corso l'interattività del progetto Argo Cassiopea, uno dei punti di riferimento per il gas della multinazionale che entro fine anno dovrebbe entrare a regime.